Lo sviluppo dei campi a gas di Argo e Cassiopea, uno dei progetti principali del protocollo d'intesa per l'area di Gela, siglato il 6 novembre del 2014 al Mise, è stato al centro dell'incontro che si è svolto ieri presso la sede della società Enimed di Gela tra rappresentanti Eni e gli appaltatori locali appartenenti a Confindustria e a Lega Copp. Un confronto che ha permesso ad Eni di illustrare lo schema Argo Cluster in base al quale gli impianti di trattamento saranno spostati da mare a terra e non cancellati rispetto a quanto previsto in precedenza. Saranno costruiti sulla terraferma recuperando alcune aree della raffineria non più utilizzate a seguito della riconversione in green refinery e su cui sono stati già avviati i cantieri per il risanamento ambientale. L'unica struttura non più funzionale al progetto è costituita dal supporto metallico traliccio che nel caso base sosteneva gli impianti in mare. Il resto del progetto e quindi l'investimento complessivo rimarrà pressoché invariato. Per Rosario Amaru, presidente di Confindustria Centro Sicilia, si continua a lavorare in modo serrato per sostenere le imprese del territorio in un clima di grande serenità e di grande collaborazione con Eni e con i sindacati. Il progetto Argo Cluster, dice Amaru, rappresenta una grande opportunità per le imprese locali perché permette di utilizzare le nostre professionalità e il nostro know-how in maniera molto più intensa rispetto a quanto era previsto con il precedente schema. L'incontro di ieri e quindi la presentazione del progetto Argo Cluster sia e rimanga un'opportunità per il territorio. A differenza di quello che era il progetto iniziale che prevedeva la realizzazione di una piattaforma, di una di questa piattaforma, chiaramente aveva pochissime ricadute sul territorio e pochissimo coinvolgimento con le imprese dell'indotto. In questo modo, avendo trasferito in onshore il progetto, rivediamo e ricrediamo che ci siano delle opportunità maggiori per le imprese locali. Difatti la presentazione di ieri non ha rappresentato altro che il coinvolgimento delle specializzazioni che ci sono all'interno di questo territorio e un'opportunità maggiore per le imprese locali. È chiaro che tutto questo rientra all'interno di una competitività delle imprese perché non saranno invitate solo le imprese locali ma chiaramente saranno dei bandi più ampi e qui sta nella capacità delle imprese di dimostrare la loro competitività attraverso la possibilità di poter partecipare a queste gare.